Oggi sono venuto all'Antica Trattoria del Reno per parlare con Enrico Biggi Ciao a tutti, piacere! che è un mastro frullatore, titolare dell'Antica Trattoria del Reno, un ristorante fra i primi 10 ristoranti di Cannone Italia nella guida abbracciami ancora e anche docente della Dry Hedge Academy quindi un super esperto di frullatura, volevo fare un video sulla frullatura ho pensato anziché farlo io, visto che potevo sfruttare Enrico ce lo spiega direttamente lui che è uno dei massimi esperti in Italia in questo argomento Allora partiamo subito con la prima domanda, proprio semplicissima, o base diciamo che cos'è la frullatura? Allora la frullatura è un processo che inizia dal momento in cui l'animale viene macellato quindi già dal giorno della macellazione inizia questo processo enzimatico diciamo che per i bovini ci vuole un minimo di 10 giorni di frullatura quindi se andate dal macellaio e vi dice questa carne è stata macellata proprio ieri no lasciatela lì, aspettate perché ci vogliono almeno una decina di giorni adesso andremo a capire poi il perché ci sono quattro principi nel processo di frullatura che vanno a lavorare questo processo appunto va a quindi a intenerire la carne a renderla quindi più tenera, più digeribile più saporita perché il grasso, i sapori che si accumulano durante la vita dell'animale quello che mangia viene assimilato nei lipidi quindi nel grasso questi sapori e durante questo processo il sapore che c'è nel grasso viene trasferito anche alla parte magra della carne e l'altro dato, punto interessante, il quarto fattore è il grasso il grasso che principalmente sulla carne in base poi come viene allemata è principalmente comunque un grasso saturo quindi il grasso quello che si accumula nell'arteria e che a noi ci dà dei problemi in questo caso invece diventa, si trasforma in grasso insaturo quindi c'è proprio una trasformazione delle catene dei grassi quindi migliora proprio anche diciamo a livello salutare, esatto quindi non diventa solo più buona, più tenera, più digeribile, più saporita ma diventa anche più salutare che differenza c'è fra una cella di frullatura così e una cella normale? cioè se io lo metto in frigo in casa non è la stessa cosa? non è la stessa cosa perché? perché come vediamo qua abbiamo anche il modo di regolare l'umidità in queste vetrine e quindi cosa ci interessa a noi? andare a creare una crosta come poi vedremo anche qua quindi qua si è formato questa bella crosta dura dove un po' nascono appunto questo bianco sono muffe, muffe nobili che sono quelle che ci vanno a aumentare anche il sapore nella carne quindi qui ci dà questo sentore di stagionatura dove qua poi viene la maestria del frullatore perché ognuno prende la stessa lombata della stessa mucca la frolli di te, la frollo io anche se siamo a pochi centinaia di metri di distanza con il nostro laboratorio comunque avremmo dei sentori diversi perché le muffe nobili che ci nascono, che vengono ognuno si crea un microclima diverso una microfauna diversa infatti mi dicevi che ognuno si la gestisce c'è anche un po' un'arte dietro a questo esatto magari vuoi tenere sotto controllo? esatto a me non mi piacciono molto i sapore se viene un sapore troppo intenso di stagionatura come quando avevo iniziato all'inizio all'inizio del frullato che avevo frullato quando le aprivi e era proprio su questo profumo e questo sapore che ti ricordavano le cantine quando entri in quelle cantine con i salumi e prosciutti appesi per dirti dove sì all'inizio è buono, è interessante infatti mentre tagliavo le prime veniva proprio l'acquolina in bocca solo al taglio dove poi però quando devi mangiartene un chilo intera semmai diventa un po' stomachevole questo sapore troppo forte, troppo intenso e invece appunto riuscire col tempo a forza di prova, 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 prova sono riuscito ad arrivare a un prodotto che mi piace quindi avere sì un po' di sentore di frullatura ma non così intenso da rovinare tutto volevo dire qualcosa sul fatto che la carne può stare lì tanto tempo e non va male no allora la carne non va male perché le muffe e le cariche batteriche diciamo sono l'acqua il problema l'umidità quindi noi andando a creare un ambiente asciutto andiamo a evitare il processo di putrefazione quindi andiamo a creare il tappo noi andiamo a creare appunto questo stappo esterno poi adesso andremo a aprire dopo la costata a vedere come si è comportata all'interno proprio per quello perché il tappo esterno ci andrà a proteggere poi la carne dentro che un po' di umidità comunque la deve trattenere perché se no si secca troppo infatti poi anche lì in base a come diciamo l'allombata iniziale se grassa, se meno grassa se marezzata, meno marezzata ci dirà lei quanto tempo poi la possiamo tenere in frullatura sono delle carni che possono essere portate noi siamo arrivati a 400 e passa giorni come sono delle carni che dopo 30 giorni sono già pronte perché sono magrissime e quindi tendono poi ad asciugarsi troppo perché il grasso comunque ci aiuta a trattenere anche l'umidità all'interno perché fa da tappo insomma quindi ovviamente non tutte le carni sono uguali a seconda di come è la carne esatto scegli tu quanto tempo la carne esatto non è che scelgo io la osservo ogni tot giorni vanno prese, controllate, girate, analizzate se si formano delle crepe vanno stuccate perché la crepa adesso noi guardiamo qua si va a stuccare con del grasso adesso qua, qua esatto esempio qua saranno formate delle crepe per evitare che con l'asciugamento appunto le fibre muscolari si potrebbero tra una fibra muscolare e un'altra si potrebbe formare una crepina dove lì dentro è umido quindi la muffa troverebbe modo di infiltrarsi di entrare e mi è capitato all'inizio di avere una crepa che attraversava tutto il Cinque Coste e dentro era tutta verde e quindi prendi e butti via tutto quindi va controllata tenendola controllata è lei che ci dirà possiamo andare avanti possiamo fermarci siamo pronti non è pronta e tutto poi logico l'esperienza ti aiuta molto perché la prima volta che lo fai vai per tentativi quindi è inutile partire buttarne su una e provare dopo un anno a vedere cosa è successo bisogna andare per step fino ad arrivare al processo giusto questo processo aiuta molto anche per un discorso di bovine adulti infatti come vedevamo qua questa è una simmental quindi razza simmental che di solito sono razze provenienti da Svizzera, Austria, Germania comunque il centro Europa e questa è stata allevata invece quindi è presa una razza autoctona di queste zone portata in Spagna allevata lì ed è quindi una simmental galiziana di 12 anni quindi è un animale adulto contiamo che principalmente in Italia è un animale vecchio perché in Italia macellazione viene fatta principalmente sui 24 mesi sui due anni dove l'animale ha finito lo sviluppo più grande di così non diventa ma può solo migliorare il sapore a quel punto dell'animale e cosa succede però come si dice anche per il brodo gallina vecchia fa buon brodo ma ha la carne dura ed è vero anche qua perché un animale più adulto dove il suo muscolo ha lavorato per tanti anni diventa più duro questo muscolo e noi con questo processo di frollatura andiamo a rintenerirlo perché lasciamo a lavorare invece che i canonici 10 giorni che semmai van bene per un animale di 24 mesi macellato 24 mesi per un animale di 12 anni bisogna andare molto più avanti perché così questi enzimi continuano a lavorare queste fiori muscolari che ha lavorato molto ce ne vanno a intenerire sempre di più e alla fine avremo un prodotto super tenero ma super saporito qua abbiamo una come dicevamo prima una simental elevata in gallizia 12 anni d'età ed è stata macellata il 10-3-2022 pochi giorni dopo ci è arrivata a noi che l'abbiamo messa in punto in frollatura adesso andiamo a vedere circa 200 siamo sui 270 giorni esattamente esattamente abbiamo aperto una bella chicchina per oggi sempre la carne è un rosso bello bello come vedi appunto ha mantenuto all'interno non c'è alterazione non c'è niente la crosta che si è andati a creare fuori tappando le crepe tutto ci ha impedito che all'interno potesse andare a alterarsi dopo andiamo a analizzarla comunque come vedi Carlo un po' si è asciugata ma dentro rimane comunque è morbida anche il profumo senti si sente un po' la stagionatura ma non è forte e ha 270 giorni non stiamo parlando di una frotturina molto molto spinta esatto esatto benissimo quindi se volete assaggiarla Berry vi aspetta qui l'antica trattoria molto volentieri intanto io ti ringrazio per tutta l'informazione grazie a te è stato un piacere ho imparato tanto ci hai detto tante cose che non sapevo quindi grazie mille di tutto alla prossima alla prossima ciao ciao